stasera facciamo un video per tutti i telespettatori che sono interessati a proteggere il proprio circuito da sovratensioni io faccio un esempio stasera per la 12 volt che mi sembra un caso abbastanza comune ma poi può essere riadattato per qualsiasi tensione questo tipo di circuiti va sotto il nome di crowbar e la loro funzione è quella nel caso in cui la tensione di alimentazione supera il valore nominale nel mio caso appunto di 12 volt la funzione di questi circuiti è quella di mettere in corto circuito l'alimentazione e far saltare una protezione come ad esempio il fusibile che ho indicato qua con f1 questi circuiti sono diciamo molto importanti perché uno potrebbe chiedersi ma perché magari non metto un diodo zener ad esempio per clampare la tensione in ingresso beh un diodo zener se la tensione diciamo da 12 volt va circa 20 volt 24 volt al doppio prima o poi si brucia e quindi non risolve il problema perché poi la tensione pericolosa può arrivare al mio carico e fare dei danni nel circuito ho inserito un tvs che è un transit voltage suppressor e questo ha la caratteristica il comportamento che assomiglia a un diodo zener ma in realtà sfrutta un fenomeno chiamato effetto valanga nel mio caso poi ho messo un tvs bidirezionale in realtà poteva essere necessario un unidirezionale come tvs uso uno della serie 1.5 ke nelle caratteristiche principali vediamo che ha la capacità di dissipare un enorme potenza di picco 1500 watt con delle derivate molto veloci infatti il tempo di intervento qua addirittura è dato addirittura su un picco secondo e quindi in una size molto compatta questo oggetto è in grado in maniera molto veloce di prendersi la corrente di cortocircuito la curva caratteristica è quella appunto dell'effetto valanga di breakdown e nel caso del bidirezionale vediamo che è simmetrica quindi abbiamo una tensione vr che è quella stand off chiamata quella a cui praticamente il diodo non interviene o comunque la corrente è piccola inferiore a una soglia poi la vbr che è quella a cui interviene il breakdown alla quale la corrente sopportata può essere molto elevata ovviamente nella finestra di tempo il solo tvs però non è sufficiente perché se vogliamo far saltare il fusibile siccome il fusibile per bruciarsi specialmente se abbiamo una corrente di cortocircuito grande come 10 o 20 ampere nel caso di un alimentatore ad esempio quindi un fusibile molto lento il tvs potrebbe bruciarsi ecco che allora utilizziamo un scr che è un tiristore quindi un semiconduttore che ci aiuterà a far passare la corrente di cortocircuito non appena la tensione il positivo di questa linea va sopra la tensione diciamo che noi vogliamo proteggere quindi quando si andrà sopra i 12 volt il tvs interviene si localizza una tensione su questa r1 che è in grado di innescare l'scr1 il quale metterà in cortocircuito l'alimentazione e farà saltare il fusibile salvando così la nostra utenza dalla tensione in ingresso pericolosa un tipico esempio potrebbe essere se noi abbiamo un'applicazione che deve lavorare su una tensione di batteria a 12 volt e questo oggetto può essere collegato a delle batterie 24 volt ad esempio nel caso che uno si sbagli mette una 24 volt questo circuito protegge il sistema che avalle infatti sfruttiamo la capacità dell'scr di essere molto rapido all'accensione quindi appena io do l'impulsino nel gate di questo'scr lui va in conduzione e soprattutto la sua capacità di portare tanta corrente per molto tempo perché quando l'scr va in conduzione qua si viene a localizzare la sua tensione d'innesco che tipicamente è bassa sull'ordine del volt e quindi tutto sommato anche se la corrente è alta la potenza che l'scr va a sostenere è piccolina perché è moltiplicata per la sua caduta in questo modo passerà il tempo necessario per far fondere il fusibile viceversa nel tvs la tensione rimarrebbe elevata la potenza sarebbe tale che rischieremmo di bruciare il tvs prima che bruci il fusibile in realtà questa sera faccio le prove con un p6ke che è un transil della st che tiene una potenza un pochino più piccola 600 watt e io ho il modello per la 12 volt questo p6ke 12a anzi ca che è il bidirezionale quindi il breakdown vediamo che varia da 11 volte 4 di minima a 12 volte 6 ecco se volessi proteggere dalla 12 volt probabilmente dovrei scegliere un modello superiore il 15 però questa sera facciamo le prove con il 12 volte andiamo a caratterizzarne le caratteristiche ecco come prime prove andiamo a collegare questo transilla a un alimentatore e andiamo a vedere le caratteristiche di innesco positivo e negativo non ci interessano in quanto abbiamo visto che è bidirezionale lo alimento salgo piano piano con la tensione vedo che fino ad ora non assorbe ecco fino a 12 volte e mezzo niente ecco comincia ad assorbire 12 volte 8 13 ecco che poi la corrente ovviamente sale proporzionalmente quindi l'innesco sembra che sia effettivamente il breakdown qua 12 volte 3 12 volte 4 questa è una misura approssimativa ma comunque indicativa ecco quindi possiamo realizzare il circuito per il fusibile usiamo un 5x20 da 3 ampere 15 io faccio delle prove con corrente bassa evidentemente per correnti più elevate bisognerebbe usare un porta fusibile 6x30 magari grosso perché comunque la corrente di corto sarà elevata condensatore ceramico da 100 nano qua sul gate dell'SCR resistenza da 100 ohm 2 watt il tvs il tvs ed infine l'SCR per l'SCR ho scelto uno della ST modello TS820 di cui vedremo dopo le caratteristiche allo schema aggiungo anche un diodo in serie orientato così sceglierò un 1N4148 poiché così alzo un po' la soglia di intervento e sto tranquillo quindi magari fino ai 13 volt non interviene e poi anche perché sfruttiamo un piccolo trucchetto nel senso che sappiamo che in temperatura questo oggetto tvs siccome è un coefficiente di temperatura positivo tenderà ad alzare la sua tensione di breakdown viceversa il diodo ha un coefficiente di temperatura che è negativo e quindi andrà un po' a compensare questo effetto di aumento della tensione di breakdown quindi andare a mettere questo elemento mi alza un pochino la tensione di intervento e mi fa una sorta di compensazione in temperatura ecco ho montato tutto su schedino quindi abbiamo la resistenza da 100 ohm il condensatore la SCR i due connettori per la 12 volt e il porta fusibile inserisco il fusibile da 3 ampere e 15 per fare il test metto una resistenza da 68 ohm e quindi avrò un carico da circa 2 watt sulla 12 volt e porto fuori il positivo e il negativo della 12 volt per fare il test tengo sotto controllo tensione corrente quindi mi porto la tensione nominale di 12 volt ecco qui abbiamo la resistenza che assorbe 170 mA ora se vado su in tensione supponiamo di avere una sovratensione 13 13,1 ecco che è partito a 13,3 circa abbiamo avuto l'intervento dell'SCR vedete che la tensione si è abbassata e adesso abbiamo una corrente di 4 ampere e 8 che è quella di cortocircuito dell'SCR se ora teniamo sotto controllo la tensione di uscita e vado ad alimentare l'ingresso piano piano ecco a 13 volte e mezzo è intervenuto il circuito e come vedete in uscita più di un volt non arriva mai quindi possiamo salvare le apparecchiature che sono alimentate normalmente a 12 volt ora che abbiamo visto che l'SCR interviene correttamente utilizzo un fusibile da 315 mA quindi con il doppio della corrente nominale e vediamo l'intervento della protezione per misurare la corrente di cortocircuito inserisco in serie al negativo una resistenza da 0,33 ohm di modo che così potrò leggere la corrente di shunt appunto quando sono a 12 volt nominali la corrente è assorbita qua abbiamo 65 millivolt quindi devo moltiplicare per 3 ho una corrente infatti di 180 mA per triggerare la corrente di cortocircuito metterò l'uscilloscopio in single mode con un livello di corrente circa 3 o 4 volte e delay del trigger a questo punto mettiamolo in modalità single simuliamo la sovratensione 13 volte 4 13 volte 6 tac ecco che è intervenuta l'uscilloscopio ha catturato l'evento però ho ottenuto una scala troppo bassa infatti è andato fuori scala già qui sono 3A adesso lo ripeto con una scala più attenuata ecco catturato l'evento con la scala più grande quindi sono a 1 volt di visione il che significa che ho 3A per divisione quindi vedo una corrente di picco di 15A molto veloce che è quella dell'SCR poi la corrente si stabilizza a circa 6A e piano piano cala quindi la bruciatura del fusibile avverrà plausibilmente in questo quadro T molto velocemente e riesco a salvare la mia apparecchiatura dalla sovratensione ho allargato la scala a 500 microsecondi quindi vediamo il picco di 15 che dura pochissimo circa 200 microsecondi l'SCR è proprio molto veloce dopodiché avverrà la bruciatura del fusibile ora faccio la prova di applicazione di una 24 volt erroneamente al circuito di 12 quindi vado a inserire il jack improvvisamente ecco che la protezione è intervenuta se vado a guardare la corrente vedo che ho il picco di corrente però praticamente taglia subito applicando 24 volt col fusibile da 315 mA vedo che interviene il fusibile in circa 40 millisecondi quindi qua abbiamo il picco dell'SCR molto veloce che mi clampa la tensione a 1 volt quindi il mio carico è tranquillo dopodiché dopo 40 millisecondi il fusibile si brucia e a questo punto si stacca l'alimentazione in conclusione quindi se volete proteggere i vostri circuiti dalle sovratensioni vi consiglio questo circuito di crowbar appunto basato su SCR e Transil altre soluzioni che impiegano di odizener o solo Transil o diciamo altri solo il fusibile non ve li consiglio perché non sarebbero abbastanza veloci per tagliare tensione e proteggere il vostro carico l'SCR che ho utilizzato è un TS820600T della ST che ha caratteristiche di una corrente nominale di 8A al picco riesce a portare fino a 100A quindi lo si può utilizzare anche per valori di corrente superiori rispetto a questo schema ha un I4T di 45A e una tensione di soglia di 0,85V per adattare questo circuito ad altre tensioni quindi dovrete scegliere un TWS con la tensione opportuna poco sopra quella che volete proteggere aggiungere eventualmente dei diodi per il discorso della compensazione di temperatura e aggiustare un po' la soglia verificate sempre che la resistenza R1 sia di potenza adeguata quando andate ad alzare questa tensione che diciamo così possa sopportare la corrente e l'SCR lavora fino a 600V quindi non ci sono problemi anche per tensioni più elevate come al solito se il video vi è piaciuto mettete un mi piace fatemi commenti o domande se c'è qualcosa che non è chiaro e ci vediamo alla prossima la prossima Grazie.